Un giorno più bello per me, personalmente, sicuro, sicuro, inizio di mia carriera politica. Mi sono bello consciente di una lotta per oggi, si noto per sostegnare la mia ragazza del Pueblo. Mi sono bello agradecido per essere. E lo mi pagano in BEC, dove trago più duro nel benesterno di Aruba. Mi chiede tre cose a risultare, sicuro, sicuro, durante la campagna. Il aspecto di sicurità, quindi sei sicuro, sicuro, fuori dal Parlamento. Mi chiede tutto il Parlamento non lo dure, e sei sua attenzione. Però, come, Kiko ha risultato a Coturini che era una politica nuova. E di noi, sicuro, sicuro, lo percorrò per un'altra politica nuova, un'altra politica a livello, un'altra politica al caso. E sicuro, sicuro, come parlamentari, noi assumiamo la responsabilità di perdere, controlla il governo, e sicuro, per un'egetto e planare, per un'abisa, per un'egetto, per trezare la soluzione del Pueblo. E sicuro, sicuro, la justicia, mi chiede la sua attenzione, e mi chiede, lo che noi abbiamo capito di campagna, lo che noi ci sono affocando su parte della prevenzione, per fare la zona che, per fare il problema sociale, la sua attenzione, perché la criminalità comincia. Ci sono state, da noi ci sono affocando, per fare la sua attenzione, per fare la sua attenzione, per fare la cura, per fare la sua attenzione. Per il momento, la banda di turisti è un aspetto organizzatorio, che non si per cura per ogni organizzazione in questione, per funzionare in modo che deve essere. Non ci sono materiale, non ci sono, ma anche la struttura di organizzazione è un'unica, che non si per il mito e la demanda che ci sono aspettati.